c'è da ringraziare anche te per il grande lavoro che hai fatto per il corso di alta formazione che partirà a breve con il 50 CM e sono orgoglioso di far parte della tua squadra tra i docenti grazie Enrico grande lavoro c'è stato e quindi noi siamo pronti a partire per la prossima relazione grande, allora condividi pure la tua il mio schermo allora, ditemi che vada tutto bene si vede? si, benissimo grazie e buona relazione grazie del tuo contributo grazie a te allora, buongiorno a tutti adesso partiamo finalmente con una parte collegata anche al covid in questa giornata dove se ne parlerà spesso e parliamo degli aspetti fisiologici e della definizione di sindrome metabolica che del suo legame con la severità dell'infezione covid-19 di cui vedremo meglio verso la seconda parte della relazione le correlazioni allora partiamo ok allora, non si può partire parlando di sindrome metabolica se non partiamo a dare due definizioni un attimino di quello che è l'obesità perché la radice su cui poi si baserà la sindrome metabolica è l'evoluzione del grasso soprattutto quello viscerale dell'obesità che si sposterà verso quello che è la sindrome metabolica allora giusto per ricordare cos'è l'obesità e la differenza con la sindrome metabolica l'obesità è una malattia cronica caratterizzata da un aumento del riservo di grasse corporee dove viene considerato il parametro di BMI quindi questa composizione corporea scusate questa body mass index questo indice di composizione corporea che se è superiore ai 30 come valore di riferimento si entra nelle varie gradi di obesità quindi obesità di tipo 1 2 3 quindi l'indice di riferimento per dire se si è in obesità oggi è il BMI quindi in questo rapporto calcolato come peso corporeo diviso per l'altezza al quadrato vediamo che è un calcolo approssimativo facile da fare ma non tiene conto della costituzione delle masse muscolari del soggetto quindi potremmo avere una persona magra ma con una grossa massa muscolare che ha lo stesso BMI di una persona lo stesso indice fisico di una persona che ha un indice di 30 e 30 tutte e due ma uno sarà diverso completamente dall'altro quindi il vero indicatore di quello che è il sovrappeso di una persona è la percentuale di massa grassa che è il vero indicatore non tanto un indice di peso come il BMI anche se viene utilizzato nella pratica e quindi le altre metodiche per raffinare questo diciamo la conoscenza di quello che è la composizione corporea sono quelle che sono riconosciute come la plicometria la circonferenza è la via che dopo vedremo meglio nel particolare di cosa si tratta vediamo anche qui i limiti della misurazione dell'indice fisico perché un basso BMI può avere un forte aumento del grasso visciale mentre un alto BMI può avere solo un lieve una lieve presenza di grasso visciale nella persona quindi non definisce la gravità innanzitutto di quel sovrappeso che l'individo ha ma definisce semplicemente se o no in un ambito di obesità oppure no oppure sempre quei limiti che vi ho detto prima rispetto alla massa grassa muscolare se non viene misurata logicamente ecco qui la differenza tutte e due possono avere un BMI elevato eventualmente ma il grasso distribuito è completamente diverso il grasso logicamente definito mea o androide è quello più pericoloso perché a livello della sua centralità spesso troviamo quello che è il grasso viscerale e qui ecco qui abbiamo le possibilità di fare l'impendenza l'analisi accurata di un esame bioelettrico che può definirci la quantità e la qualità della composizione corporea in relazione a un segnale che viene inviato e ha un feedback calcolato poi del software che ci permette di stimare a livello ambulatoriale i diversi parametri tra cui la massa grassa totale e il grasso viscerale oggi queste macchine ci permettono di avere delle indicazioni in più a parte la plicometria la circonferenza che vedremo tra poco quanto è importante nell'ambito del sintomo metabolico questi parametri ci permetteranno di avere delle graficate di tipo analitico questi sono alcuni esempi che ci permetteranno meglio di capire dove l'individuo la composizione corporea in muscolo quindi massa muscolare massa grassa grasso viscerale acqua acqua esterna acqua interna le cellule e via così i parametri utili per poter meglio definire dove il soggetto dal punto di vista metabolico le cause di obesità interazioni sono dovute all'interazione complessa tra fattori biologici genetici e come si parlava oggi già di epigenetici e fattori epigenetici comportamentali e sociali ambientali incluso lo stress cronico che spesso è una concausa di questo ingrassamento e sono coinvolte nell'elegazione del bilancio energetico e nelle riserve di grasso il rapido aumento della prevalenza dell'obesità negli ultimi 30 anni è principalmente dato dall'influenza culturale e ambientale in cui si vive soprattutto nelle società industrializzate i fattori genetici come abbiamo parlato sono molto importanti ma se una persona porta debolezze quindi già una tendenza a depositare grasso a insulino resistenza a grasso viscerale se si manifesteranno fattori epigenetici appunto come dicevo prima l'alimentazione il comportamento i fattori ambientali eccetera come vediamo anche dopo potranno determinare un'accensione di quei geni che porteranno verso l'obesità e poi se la persona presenterà ulteriori geni obesigeni questa situazione è molto facile oggi da determinarsi nell'ambito della nostra società dove tutta una serie di determinanti modificano la nostra genetica verso quello che poi è l'obesità laddove si è predisposti una dieta ad alto carico calorico è un'altra causa oggi che causa questo problema un aumento delle dimensioni delle porzioni alimentari andiamo nei ristoranti e ci danno minimo 150 grammi di pasta quindi oggi è proprio una questione culturale si va a mangiare e più si mangia più l'individuo è contento di aver portato a casa la pancia piena si ha una bassa attività fisica l'adozione dello stile di vita è sedentario i disturbi alimentari sono anche questi oggi causa di disturbi relativi al peso i fattori comportamentali ambientali partono da alterazione della struttura del tessuto adiposo portano scusate portano all'alterazione del tessuto adiposo con ipertrofia e iperplasia degli adipociti infiammazione e la secrezione alterata di ormoni che poi vediamo dopo aprendo la strada verso la sindrome metabolica oggi sappiamo che il nostro intestino è sul microbiota sapete che io è un argomento cui che amo particolarmente microbiota perché accompagnato nella mia storia clinica i miei pazienti ho notato sempre che era un organo che quando riuscivo a approcciarci con successo il benessere della persona era quasi sempre garantito quindi un organo che coinvolge moltissimo la nostra salute e il microbiota quindi oggi è stato individuato anche come fautore di disordini metabolici e perché non parlare un secondo del microbiota dove abbiamo visto che diversi sono i fattori oggi alla base dei dismetabolismi dell'ingrazzamento dell'obesità e della sindrome metabolica come possiamo vedere in questo schema dove questo studio molto bello che ormai risale nel 2015 ha elencato tutti i fattori potenzialmente coinvolti nella 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 obesità e nella sindrome metabolica adesso non andrò troppo nei particolari ma su nelle successive slide vi illustrerò quali sono questi fattori nel corso che terrò proprio alla scuola di alta formazione parlerò un po' meglio nel particolare di questi meccanismi vediamo un attimino però almeno alcuni si sa che se c'è una disbiosi un'alterazione microbiota sia in senso di qualità batterica sia di equilibrio batterico relativo a quello che è la presenza di batteri buoni chiamiamoli batteri meno buoni nell'intestino un equilibrio dinamico importante si potrà andare in conto oltre che se si avrà anche un'alterata permeabilità intestinale si andrà incontro delle modifiche che possono vedere come vediamo in questo schema l'alterazione sul tratto sulle funzioni fisiologiche del tratto digestivo con cambiamento di motilità aumento della energia introdotta questo si è visto nel rapporto firmicutes bacteroide test se aumentano i firmicutes sui bacteroides più o meno grande linea oggi lo possiamo dire ma nel particolare lo vedremo successo in futuro ci sarà un aumento di quello che sarà il carico calorico della persona un aumento della digestione un'alterazione della digestione dei polisaccaridi potrà aumentare anche qui un sovraccarico energetico anche qui proprio anche perché i firmicutes sono proprio avidi in polisaccaridi e quindi se produrranno troppa energia troppa calorie l'organismo potrà risentirne del suo carico calorico quindi aumentare di peso un'alterazione di alcune fondamentali sostanze come il fasting induced adipose factor che è il FIAF che se si altera si è visto che può alterare la deposizione dei trigliceridi se scende questa sostanza che regola l'omeostase glucida lipidica che alcuni batteri proprio in disbiosi possono bloccare ci sarà un aumento lipidico perché questa sostanza controlla il deposito nelle depuciti di trigliceridi e quindi mancando questo controllo ci sarà una maggior produzione di grasso e un'alterazione se avverrà addirittura dell'AMPK che è questa adenosina importantissima per la gestione del metabolismo glucidico lipidico mitocondriale si andrà incontro a un rischio maggiore di lipogenesi e di riduzione dell'ossidazione dei grassi con un'alterazione importante del metabolismo sull'AMPK si lavorano proprio sia dei nutraceutici che dei farmaci che vanno a regolare questo sistema al fine di equilibrare e normalizzarlo ancora sempre a livello intestinale ci potranno essere delle comunicazioni diciamo alterate sui recettori accoppiati alle proteine G che sono importantissimi per attivare la risposta immunitaria per regolare la fame e la glicemia oltre all'insulino sensibilità e poi ancora abbiamo dei recettori che sono i recettori per gli acidi biliari che se sarà sregolato l'attività di scomposizione dell'acido biliario primario e secondario se avremo troppo acido biliario in circolo di tipo secondario perché metabolizzato da alcuni enzimi presenti nella folora batterica noi avremo un'alterazione del deposito di trigliceridi in particolare a livello epatico e così anche se avremo delle alterazioni di quello che è la metabolizzazione della colina della carnitina potremmo avere un innalzamento di quello che è la trimetilamina che diventerà la trimetilamina N-ossido nel fegato che è una sostanza che può alterare i parametri metabolici fino a portare a un rischio aterosclerotico e di trombogenesi quindi di aggregazione di piastrine qui in questo slide vediamo un riassunto un po' di quelle che sono le interazioni che girano tra di loro quindi abbiamo l'ambiente microbiotico a secondo della presenza o no di sostanze attive in senso protettivo come gli acidi a catena corta o se abbiamo invece delle sostanze nocive oppure abbiamo delle batteri gramme negativi che portano su di loro quello che sono i lipopolisaccaridi di membrana queste 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 interazioni tra questo gli acidi biliari che vi giungeranno eccetera potranno alterare la secrezione ormonale delle cellule intestinali con un'alterazione del metabolismo glicemico del deposito di grasso della sazietà dell'insulina sensibilità e questo su questo medierà logicamente l'alimentazione che il soggetto farà che automaticamente cambierà l'ambiente intestinale sia dal punto di vista di batteri che di sostanze nutritivi che vi giungeranno e infine un'altra cosa importantissima sul metabolismo è la parte della disbiosi come abbiamo visto e l'infiammazione che ne può derivare dall'intestino e la permeabilità intestinale che se viene alterata l'intestino passerà da essere un setaccio di farina con la pasta quindi un collo a brodo che butterà all'interno delle sangue tutta una serie di sostanze tossiche che devono vivere nell'intestino non devono superare la barriera ma essere eliminate con le feci oltre che di parti di batteri di cibi altro che potranno giungere al sistema immunitario alterando tramite una risposta immunitaria lo stato infiammatorio e generando una pioggia citochinica che è sicuramente pericolosa sia in queste condizioni verso l'obesità che nelle condizioni di covid-19 una pioggia citochinica intestinale non aiuterà sicuramente la storm la citochin storm che deriverà proprio dal covid come vedremo più avanti e quindi si è visto che una atterrata barriera intestinale un'infiammazione derivante d'intestino può avere effetti nocivi su tutta una serie di situazioni nell'organismo tra cui aumentare l'obesità aumentare il rischio di ebete 2 il deposito di grasso creare alterazioni come abbiamo visto qui polmonari perché abbiamo un GALT che è collegato al sistema immunitario del polmone quindi chi aveva un intestino alterato sicuramente poteva avere maggiori incrementi del danno polmonare perché il sistema immunitario sicuramente nel covid era già aggredito iperattivato scusate dal virus immaginate se anche l'intestino non mi dava la sua parte nella regolazione immunitaria corretta e infine l'insulino resistenza della sindrome metabolica si è visto essere mediata anche da questi squilibri intestinali di cui abbiamo parlato anche prima quindi l'intestino come con causa e come fattore di rischio importante sul dismetabolismo la sindrome metabolica e l'obesità e in questa ultima slide vediamo un po' più nel particolare quanto questo fenomeno legato ad alcuni anche batteri specifici presenti nell'intestino può alterare l'equilibrio dell'insulina può parlare un po' più lentamente ah certo certo io pensavo di essere a ritmo corretto rallento rallento scusatemi allora grazie niente niente allora rallento un attimino se non è chiaro qualcosa avremo tempo poi anche di far domande di rivedere insieme le cose allora io adesso comunque riassumendo perché si è stato perso qualche pezzo abbiamo visto che sia un'alterazione disbiotica dell'intestino quindi uno squilibrio intestinale con la dominanza di alcuni batteri che hanno alcuni enzimi specifici che possono metabolizzare alcune sostanze in maniera anomala o non fisiologica possono interagire con sistemi di regolazione metabolica più se abbiamo un'alterazione della barriera intestinale possiamo vedere passare oltre sostanze infiammatorie che vanno a interagire con il nostro sistema innato in particolare i Todak Receptor che sono questi recettori in particolare i quattro che hanno sensibilità di tipo infiammatorio possono attivare meccanismi di insulino resistenza se questo fenomeno tramite il passaggio di queste sostanze come vediamo nella slide mediata anche da alcuni batteri che producono maggiormente T-Mau che è questa sostanza derivata dalla colina e carnetina possono interagire con i sistemi metabolici mentre la presenza di batteri buoni come difidobatteri e la chermansia e la produzione corretta di quelli che sono gli acidi grassi a catena corte acido butirico acetico e propionico possono aiutare a regolare invece questo meccanismo come quello immunitario quindi ridurre l'infiammazione e come vediamo anche sempre nella stessa slide sostanze come la T-Mau sembrano proprio sregolare il metabolismo dei grassi aumentando i trigliceri e via così quindi questa alterazione dei trigliceri abbiamo visto che può avvenire già tramite una gestione alterata della FIAF tramite una gestione alterata degli acidi biliari tramite una gestione c'è un passaggio di LPS che vanno a attivare meccanismi insulinici sul fegato con deposito di trigliceri e di esterose epatica oltre che direttamente tramite una una carenza di sostanze attive che derivano spesso dall'alimentazione dove ci sia almeno l'introduzione costante di fibre frutta possono favorire e proteggere da questa degenerazione di tipo metabolico e qui vediamo in questo slide questo crossalt tra il microbiota intenzionale e l'ospite nell'infiammazione del metabolismo una volta che si avviano questi processi anche lo stesso microbiota potrà dare una mano a un'alterazione del metabolismo ma una volta che il metabolismo è alterato e siamo incontro a una sindrome metabolica la stessa sindrome metabolica con la sua infiammazione insulina resistenza e il deposito di grasso potrà interagire sul sistema microbiotico si entra in un circolo vizioso da cui poi difficilmente si può uscire se non si lavora su tutti i vari frattori oggi un paziente deve essere inquadrato anche sul microbiota e studiamocelo in microbiota io sto lavorando tanto verso questa strada portando docenze e conoscenze perché microbiota se lo sappiamo gestire ci permetterà di avere ulteriori risultati su pazienti che hanno dei dismetabolismi non dimentichiamoci di questo organo oltre della dieta dell'attività fisica e dell'approccio alla regolazione dei fattori infiammatori e insulemici Enrico dimmi quando se magari con il mouse vai quando parli di quella cosa vai lì la evidenzi col mouse ti ringrazio metto la pennina ce l'ho pronta qui grazie grazie siete tantissimi infatti vi ringrazio per la partecipazione allora da qui dopo che abbiamo parlato quella parte che vi ho parlato sull'intestina richiede ore di lezione nella lezione che vi dicevo che farò in qui al corso di alta formazione avremo se non ricordo male due ore a disposizione di parlare di microbiota alimentazione fattori epigenetici eccetera e quindi andremo un po' più nel particolare qui adesso parto a parlare di quello che è il collegamento poi che porta l'obesità attraverso il grasso viscerale alla sindrome metabolica vediamo se riesco a recuperare la freccina che c'è qua vediamo penna eccola qua l'ho trovata la vedete penso allora questo è bello per vedere un po' l'inquadramento di quello che è la sindrome metabolica dove non vediamo solo la parte superiore che l'ingrassamento del paziente impariamo a riconoscerlo già come entra in studio un paziente che ha un grasso viscerale lo vediamo subito perché la pancia si distingue ma soprattutto vediamo che il grasso è soprattutto inquadrato nella parte superiore del corpo un po' più forte per favore allora alzate anche il vostro volume perché io sono al massimo della voce grazie grazie allora l'obesità come vedete è solo la punta dell'iceberg e dietro l'obesità inizialmente potrebbe non essere iniziata una sindrome metabolica ma dobbiamo andarla a valutare vediamo poi dopo i parametri che ci sono dietro vedete il centro l'obesità e sotto i parametri dismetabolici dove sicuramente un grande fautore di tutto questo è l'insulino resistenza che genera che può generare una serie di alterazioni di slipedi di slipidemiche ed essere anche fautore insieme a altre situazioni dell'ipertensione fino ad arrivare al diabete di tipo 1 e via così adesso lo vediamo nel particolare a me piace sempre far vedere l'iceberg perché dietro a tante problematiche di salute abbiamo sempre consideriamo sempre la punta dell'iceberg ma ci dimentichiamo tutto quello che c'è sotto che è fondamentale da raggiungere per poter risolvere e sciogliere l'iceberg nella sua punta superiore vediamo le definizioni un attimino nel tempo di sindrome metabolica allora siamo partiti con la prima definizione del 98 dell'organizzazione mondiale della sanità dove si metteva al punto centrale l'insulino resistenza nella fisiopatologia della sindrome metabolica era un requisito assoluto importante come anche la presenza dell'alterazione del glucosio a digiuno che doveva essere riscontrato 100 microgrammi di cilisi se non superiore oppure l'intellanza glicemica dopo la digestione di glucosio che doveva dopo i 120 minuti che doveva essere fuori dal fisiologico in caso esame alternativo una misura come l'OMAIR quindi l'indice di insulino resistenza poteva essere indicativo rispetto all'individuazione di un insulino resistenza e poi inseriva anche altri fattori come la disidipidemia l'ipertensione la microbriminuria oltre che l'obesità come indicatori importanti insieme all'OMS l'insulino resistenza fu anche lei inquadrata nel gruppo europeo per lo studio dell'insulino resistenza che l'aveva ritenuta centrale per la sindrome metabolica successivamente queste sono tabelle un pochino elaborate però successivamente come vediamo altre definizioni si sono susseguite prima nel 99 poi nel 2005 si sono susseguite nuove definizioni di sindrome metabolica che hanno rivisto un po' il concetto dell'insulino resistenza hanno definito importantissimo il discorso obesità ma soprattutto si sono iniziati a concentrare su quella che era il parametro della circonferenza addominale oltre mantenere ad esempio tra le più recenti quella del 2005 e la revisione della National Treatment Colesterole Education Program che hanno considerato il fattore insulinico come un glucosio a digiuno uguale a un maggiore a 100 senza più nominare l'insulino resistenza e dei parametri metabolici superiori 150 dei trigliceridi un'alterazione dell'HDL sotto i 40 e una pressione sistolica maggiore di 30 gli indicatori dicevano che almeno tre fattori su cinque devono essere presenti al fine di determinare la sindrome metabolica e successivamente un'ulteriore classificazione mantenuta a queste del 2005 ma anche una nuova del 2009 della Joint Interim Statement of International Dabetics Federation Tax Force aveva rivisto ulteriormente questi fattori considerandoli più o meno simili a quelli del 2005 e anche qui considerandoli insulino resistenza più non come fattore diretto da considerare ma come la glicemia a digiuno è il fattore chiave per valutare se si era incontro a una sindrome metabolica ma soprattutto furono rivisti in maniera ancora più cospicua i valori della circonferenza vita adeguandoli alla popolazione europea e la popolazione mediterranea rivedendoli rispetto a quello che era la popolazione soprattutto oltreoceano degli Stati Uniti e quindi oggi la definizione più recente sono queste ma io posso considerare sempre che il fattore insulino resistenza è molto importante perché se non c'è insulino resistenza difficilmente si vedono degli squilibri di tipo metabolico che troviamo quando troviamo un HDL basso e i trigliceridi alti se ci sono i trigliceridi alti ricordiamoci che molto facilmente troveremo un'astiatosi e oggi sappiamo che l'astiatosi è mediata dall'insulino resistenza epatica su stimolo eventualmente infiammatorio di varie origini tra cui oggi sappiamo che il microbiota può essere causa di questa insulino resistenza mediata dai toy-like receptor 4 che possono attivare la cascata infiammatoria epatica l'insulino resistenza e l'ingrassamento epatico andando verso l'astiatosi epatica e qui questa tabella riassuntiva dove sono state riviste le misurazioni di circonferenza oggi nel nostro paese dobbiamo considerare gli uomini sopra i 94 cm e le donne sopra i 80 cm di circonferenza vita e poi la quantità di grasso e quindi viene stimata tramite la circonferenza vita la circonferenza vita viene misurata sul piano orizzontale a metà distanza tra la cresta ediaca superiore e il margine inferiore lo vediamo nella foto successiva nell'ultima costola e il più recente consenso della federazione internazionale di abeta ha definito l'obesidità centrale quella ginoide scusate quella androide non quella ginoide e quella viscerale come una circonferenza vita 94-83 donne come ho appena detto e viene considerata oggi la circonferenza come componente standard per la valutazione del sovrappeso e per la valutazione di quelle che sono le comorbidità collegate alla sindrome metabolica tra cui il rischio di malattia e morte questa è una foto che fa vedere come viene presa la circonferenza vita ma anche che esiste un altro fattore chiamato VHR che è il rapporto tra vita e fianchi anche questo su molti studi scientifici viene annaverato come un altro predittore di malattie cardiovascolari di malattia in generale perché e viene e vede il rapporto appunto tra la vita e i fianchi dove è un rapporto come vedete qui sotto negli uomini meno di deve essere meno di 0,9 nella donna meno di 0,8 se invece è superiore a questi valori si avrà un rischio moderato a rischio alto di andare incontro al rischio cardiovascolare quindi sia la circonferenza che il rapporto vita e fianchi può essere un indicatore del rischio del paziente come vediamo nelle foto vediamo bene dove vengono prese queste misurazioni importante è ricordarsi che la circonferenza a fianchi va presa considerando come punto di riferimento il grande troccantere del femore e questo è una dimostrazione che comunque anche queste misurazioni possono lasciare dei dubbi perché se io misuro un paziente che ha un grasso viscerale importante ma anche dei fianchi molto larghi il rapporto vita e fianchi potrebbe essere uguale a una persona che non ha viscerale e non ha neanche più di tanto grasso quindi bisogna essere attenti sempre a queste misurazioni e dargli un buon senso e soprattutto ricordarci a delle armi che abbiamo oggi che sono la dia questi strumenti elettronici che ci possono dare una mano a stimare il grasso viscerale è logico che strumenti come la Dexa o altri strumenti oggi più tecnologici anche un'ecografia ben fatta può ulteriormente stimare il grasso viscerale stimare misurare in maniera più corretta il grasso viscerale ma in livello ambulatoriale sono meno facili da gestire quindi utilizziamo la via che ci può dare una grande mano questo è un percorso carino che ci dà l'istituto di medicina funzionale per non sbagliare a individuare laddove c'è un possibile sindrome metabolico o un'obesità dove se troviamo un BMI attiva alto e andiamo a valutare un incremento della ciclovenza vita un incremento del rapporto vita fianchi a quel punto se abbiamo anche un incremento del grasso corporeo e in particolare viscerale siamo verso una via androgenica un grasso androgenico importante quindi parametri da utilizzare sempre in più visioni e in più situazioni per poter meglio definire se siamo effettivamente di fronte a un grasso viscerale poi un collega o un professionista che ha una grande esperienza nel guardare il paziente lo vede subito se il paziente sta portando grasso viscerale soprattutto se è importante se non è importante logicamente ci affidiamo le misurazioni perché sarà più difficile vedere se lo sta depositando a volte in persone quasi magre con una piccola pancetta dietro a quella piccola pancetta in effetti c'era un grande viscerale all'interno e questo grasso che si diffonde tra gli organi davanti all'omento vediamo se ho messo una foto se l'ho messa successivamente lo rivediamo tra poco meglio per capire cos'è questo grasso viscerale e poi altri parametri per la sindrome metabolica sono stati individuati appunto a parte fondamentale questa obesità viscerale abbiamo trovato le dislipidemie si possono misurare fattori di biomarche io li chiamo avanzati che è l'apoliproteina B che molto spesso è alta nella sindrome metabolica ed è l'apoliproteina che trasporta le LDL di piccole dimensioni le piccole LDL che sono particolarmente aggressive aggredite scusatemi dal punto di vista ossidativo e tendono a entrare più facilmente attraverso l'endotelio quindi questi sono parametri ulteriori a conferma che siamo in una situazione metabolica pericolosa laddove qualcuno lo può misurare si può misurare l'ettina la diponettina che sono alterate l'insulina resistenza ne abbiamo parlato e poi bisogna stare attenti perché in sindrome metabolica si va incontro ad alterazioni come vedremo tra poco endoteliali infiammatorie e si va incontro a steatosi epatica iperlucemia spesso che accompagna l'insulina resistenza abbiamo visto che dove c'è insulina resistenza spesso c'è iperlucemia e dove c'è iperlucemia spesso c'è insulina resistenza e stress ossidativo potremmo avere e aumento delle proteine ciriattive delle citochine infiammatorie dell'ipercoobulità nel sangue l'aumento di fibrinogeno tutti i fattori importantissimo anche nel covid come vediamo tra poco ed ecco qui il grasso viscerale che è questo grasso che si mette si deposita sull'aumento e si trasporta lungo i grassi scusate lungo i visceri possiamo trovare il grasso viscerale che nel momento in cui il grasso viscerale sale molto lo possiamo trovare anche sul cuore quindi è un grasso altamente pericoloso perché va a depositare lungo gli organi del nostro corpo e guardate all'interno lo vediamo meglio tra poco del grasso viscerale quante sostanze infiammatorie quante sostanze aterogeniche diabetogeni trombosiche aterosclerotiche infiammatorie e ipertensive si iniziano a produrre nel tempo fino a rischiare di ingrassare di infiammare il soggetto e predisporlo come abbiamo visto a diverse malattie immunità l'organo adiposo è un vero e proprio organo endocrino e quindi dobbiamo valutare con attenzione questo grasso e prevenirlo più che prima che si formi laddove si formi aggredirlo in maniera importante al fine di ridurre il rischio di tutte queste malattie connesse vediamo che c'è un esordio che poi mano a mano nella media grave obesità si avvieranno dei processi infiammatori mediati dai macro mediati attenzione ai microfoni si spegna grazie vediamo che vediamo questo fenomeno di ingrassamento che sarà mediato dal fattore infiammatorio dove verranno reclutati i macrofagi vediamo qui in questa slide questo è uno studio che ha visto la correlazione tra il grasso viscerale e il cancro e vediamo che questo mi piaceva farvi vedere perché all'interno del grasso viscerale c'è una risposta infiammatoria importante con ipossia e gli adipociti una volta che inglobano troppo grasso a un certo punto si esplodono in poche parole vengono aggrediti dalle cellule immunitarie in particolare il mediatore sarà il macrofago come vediamo in questa slide il macrofago che sarà quella cellula deputata a inglobare tutte quelle sostanze liberate da queste cellule necrotiche attivando sapete che la cellula macrofica è il grande attivatore infiammatorio attivando tutta una serie di risposte infiammatorie tra cui interleuchina l'interleuchina 6 importantissimo come ho visto nel covid oltre che il tnf alfa l'interleuchina 1 beta sono tutti fattori di infiammazione acuta che si riverseranno inizialmente nel grasso poi nel ciclo sanguigno determinando un'infiammazione sistemica mediata del tutto poi il sistema infiammatorio immunitario che sarà poi alla base di questa questo inflammosoma il grasso viscerale tutte quali funzioni ha vediamo che attiva i fenomeni di insulino resistenza di l'ipidemia terogenica il PAI quindi aumenta l'ipercorrobilità del sangue come abbiamo visto nel covid c'è questo fenomeno trombotico che avviene per l'eccessiva infiammazione che poi può generare embolia abbiamo un'alterazione dell'insulino resistenza insieme a un'alterazione della sequenzione della resistina della retina e soprattutto un impoverimento della adiponettina che è fondamentale per aumentare la sensibilità insulinica e migliorare le funzioni vascolari ed ecco qui come vediamo qua i fattori infiammatori più importanti di fase acuta TNF alfa e interleuchina 6 liberati in circolo e qui il fenomeno che ne avviene con l'insulino resistenza qui vi ho voluto mettere queste slide per ricordarvi i fenomeni fisiopatologici che ci sono dietro dove l'interleuchina 6 media un'alterazione fino ai vasi come vediamo tra poco l'insulino resistenza scusate il pancreas inizierà ad avere delle alterazioni anche per via ossidativa infiammatoria dei propri recettori insulini alla liberazione scusate dell'insulina fino a determinare vasocostruzione aterosclerosi alterazione dei glut 4 e quindi anche a livello del muscolo una grasso un deposito di grasso nel fegato e soprattutto come vediamo nella prossima slide una disfunzione endoteliale mediata da un'alterazione di quella che è l'enos quindi della produzione normale di ossido nitrico e quindi dell'ossigenazione del corpo ma soprattutto una disfunzione in senso ipertensivo infiammatorio e prograbolativo dei vasi sanguigni e qui ancora l'ultimo passaggio dove c'è questo eccesso di grassi liberi che favorirà il deposito di trigliceridi il trasporto di VLDL e la formazione delle piccole e dense LDL particolarmente aterogeniche come vi ho detto ecco qui mediato dalla APO-B questo trasporto anomalo che porterà lungo il circolo aterioso ematico e queste pericolose LDL che transiteranno attraverso la parete endoteliale determinando fenomeni aterosclerosi laddove attiveranno anche loro vedete il macrofago sarà il macrofago che ha dei recettori particolarmente sensibili delle LDL piccole dense che le ingolveranno in maniera avida e attiveranno anche qui il fenomeno infiammatorio quindi vedete il macrofago nel grasso viscerale e il macrofago nell'endotelio a creare infiammazione e questo si sosterranno a vicenda fino a creare quello che è il rischio cardiovascolare rischio di comobilità importante nella sindrome metabolica e questa foto per riassumere e vedere che cosa che pioggia di alterazioni può degenerare il grasso viscerale in tutti gli organi come potete vedere sempre mediato da questa infiammazione e qui ultima slide per vedere non della presentazione ma di questa parte qui per vedere il grasso viscerale le correlazioni enormi che ha eccola qui guardiamo parlava tanto prima del Giorgio del mitocondrio grasso viscerale disfunzione mitocondriale che è inflammosoma interleuchine infiammazione stress ossidativo alterazioni epigenetiche cellulari alterazione del grasso è una infiltrazione quello l'abbiamo visto dei macrofici dei celluli infiammatori produzione di interleuchine infiammatorie e in più abbiamo da considerare anche la predisposizione come abbiamo visto genetica prima se l'individuo ha una forte predisposizione genetica questa infiammazione sarà molto più importante e anche questa slide come bello vediamo mette la premiabilità intestinale l'intestino quindi in questa slide vediamo tutta una serie di fattori alla base di questa inflemmaging che poi porterà verso tutto un serio di rischio immaginate un paziente che ha questa inflemmaging dentro di sé che rischio di aggravarsi nel covid 19 che ha i microfoni per favore allora un'altra cosa da considerare la famosa vitamina D che nell'obesità e nel grasso viscerale viene alterata viene alterato l'assorbimento il sequestro il rilascio e quindi in più spesso si vede una persona obesa è più sedentaria si espone meno al sole ha un'attività esterna magari meno importante perché vive più una vita pigra e questa situazione qui guardate la vitamina D viene è una vitamina diposolubile viene sequestrata è tamponata è diluita nel tessuto adiposo in eccesso è un insufficiente introito degli alimenti e vitamina D spesso nell'obeso ci sono perché mangia alimenti caloricamente importanti poveri in calorie povere e quindi povero l'introito di vitamine e dopo l'esposizione del sole si è visto che la vitamina D risulta inferiore al 30% nell'obeso rispetto all'esposizione del sole che nell'enormo peso quindi un altro fattore da non dimenticare che vediamo dopo che la vitamina D è fondamentale anche nel covid si possono leggere già molti molti lavori bibliografici su PubMed dove emerge che la vitamina D è fondamentale nel supporto delle funzioni immunitarie esercita un'importante funzione regolatoria nei confronti dell'infiammazione e questo ricordate che lo fa anche mediata dalla vitamina A che è molto importante che lavora in sincrono l'anemia con la vitamina D come la K2 che è importante a deposito di calcio nelle arterie e nei suoi valori fisiologici raccomandati è protettiva nei confronti delle infezioni respiratorie acute sia nelle adulti che nei bambini è stato documentato inoltre che la vitamina D è in grado di modulare l'espressione del recettore di membrana di CD26 che se ricordate è utilizzato dai coronavirus per legarsi alle cellule e infettarle oltre ad esercitare un effetto antivirale diretto della vitamina D sulla replicazione del virus inoltre si conferma il ruolo della vitamina D nel modulare l'eccezione e l'espressione dell'interferone gamma e l'interleuchina 6 indicatori prognostici negativi nei pazienti con polomoniti inclusi quelli con covid-19 quindi l'obesità di sindrome metabolica ha carenza anche di vitamina D quindi un'infiammazione fuori controllo e come vediamo qua da questo studio nei pazienti con sintomi lievi è stato osservato una valore di vitamina D sopra i 31 nanogrammi millimetri nei pazienti con gravi problemi di covid manifestazioni più gravi vitamina D minore a quello che era i valori fisiologici i livelli serici di vitamina D sono stati correlati con gravità dell'infezione che correla e che la correzione della carenza di vitamina D poteva migliorare l'outcome clinico qui vediamo un grafico dove fa vedere effettivamente i vari valori di vitamina D e le gravità relativi a quello che era la severità dei casi di covid-19 e qui abbiamo un altro slide che mostra le correlazioni nelle deficienze di vitamina D verso diabete iperlitimemia ipertensione sindrome metabolica che automaticamente riduce la vitamina D come anche il diabete l'obesità e l'insulino resistenza quindi una implicazione metabolica oltre che sull'aspetto infiammatorio della vitamina D è stato riconosciuto e qui in questo slide che vede l'importanza della vitamina D sul rischio cardiovascolare possiamo vedere come la vitamina D riduce la presenza di Tl per 1 che sono cellule anche pro-infiammatorie oltre che la riduzione di quella che è l'espressione di mediatori dell'infiammazione tra cui l'interleuchina di fase acuta e qui iniziamo a vedere invece quei lavori che dimostrano quanto l'obesità sia più aggravante e predisponente verso il il covid scusate perché qui la slide la apro un attimino un attimino solo che la slide è andata a coprire scusate adesso ve la ricondivido perché c'è una slide che è scorretta ok arrivo subito due secondi prendete un rispiro aspetta che ve la ricondivido subito tempo di aprirlo allora arrivo eccomi qui condividiamo la slide e siamo di nuovo un rispiro un bicchiere d'acqua e siamo tutti di nuovo eccoci qua allora i pazienti con obesità si è visto che le pazienti con obesità hanno spesso disfunzioni respiratorie proprio per l'eccesso di grasso proprio perché i meccanismi di resistenza delle viere e lo scambio di grasso è alterato dalla compressione del grasso infatti la presenza del grasso poi porta l'obesità porta a una comorbidità che può rendere più grave il quadro effettivo polmonare come abbiamo visto questi soggetti sono predisposti a polmonite associati a ipoventilazione e ipertensione polmonare estrascambiaco questo già indirettamente dall'infezione di covid si è visto che il paziente obeso è più a rischio polmonare nella sindrome metabolica dove c'è anche ipertensione di istripedemia situazione prediabetica in situazione resistente potrebbero predisporre l'individuo a eventi cambioscolari e a maggiore suscettibilità alle stesse infezioni come vediamo nella figura sotto l'obesità porta a disfunzioni ripispiratorie porta a comorbidità di accompagnamento che abbiamo visto rendere più severa la condizione del covid dopo vediamo nelle stagioni successive che molti pazienti presentavano queste comorbidità nel covid e poi le alterazioni metaboliche anche qui si è visto che molti pazienti con covid erano ipertesi lo vediamo tra poco e un altro studio dice che l'impatto sproporzionato dell'influenza che è già nella 1N1 e ora nel covid-19 che nei pazienti con obesità e obesità grave non sorprende che era già molto presente questa aggressività dei virus e l'impatto dell'obesità sulla funzione polmonare l'obesità è associata alla riduzione delle ah no questo l'abbiamo già detto quindi posso saltare lo stesso studio ricordava che l'obesità influenzava molto la capacità respiratoria e la funzione respiratoria ma ricordiamoci che ulteriormente questi pazienti in posizione supina riducevano ulteriormente l'escursione diaframmati quindi immaginate questi malati di coronavirus sdraiati su un letto la difficoltà respiratoria che potevano già avere oltre che per il covid anche per la stessa posizione e il grasso che poteva ridurre questa capacità di escursione respiratoria e in più aspettate qui ecco qui l'aumento delle citicotine infiammatorie associate all'obesità poteva contribuire alla gravità quindi gli studi stanno già dimostrando che l'obesità e la presenza di infiammazione da sindrome metabolica potevano mediare questa problematica in questo studio ulteriore sono tutti studi recenti in questo studio ulteriore si è visto che il diabete tipo 2 e l'ipertensione erano con morbidità più comune nei pazienti con infezioni da coronavirus prove emergenti dimostrano un importante collegamento meccanicistico metabolico ed endocrino diretto con il processo della malattia e quindi è importante che i medici garantiscono un controllo metabolico precoce completo per tutti i pazienti affetti da covid-19 e noi medici e operatori della salute dobbiamo prevenire nel tempo oggi stando in casa molte pazienti hanno mangiato peggio di prima sicuramente molti sono stati più studentali sono ingrassati e quindi noi dobbiamo fare un lavoro di prevenzione sul covid ma non solo sul covid ma su tutte quelle che potranno essere le infezioni future verso i pazienti che sono a rischio quindi dobbiamo rimetterli in condizioni fisiologiche accettabili guardiamo gli studi che sono stati fatti negli ultimi tempi nei reparti dove c'erano i malatti di covid ben 305 pazienti ben 121 con diabete 78 con problemi cardiovascolari no scusate 78, 35, 33 18 con problemi cardiovascolari e ben 37 con obesità grave più 206 con ipertensione quindi colleghiamo alla sindrome metabolica l'obesità tutti questi fattori quindi pazienti obesi con sindrome metabolica scateneranno con grande probabilità maggiore di altri con morbidità come problemi diabetici cardiovascolari e ipertensione e saranno fattori secondari che poi determineranno nel tempo il rischio covid e qui un altro studio ancora sempre sulle correlazioni con l'obesità che ha concluso che per stimare meglio il rischio di complicanze nei pazienti con covid-19 oltre alla valutazione dei parametri ospedalieri standard sono molto importanti le misurazioni dei parametri antropometrici e metabolici e metabolici questi parametri includono il BMI come abbiamo visto la circonferenza vita e fianchi e i livelli di glucosa insulina questi ultimi parametri possono essere utilizzati nella stima abbiamo visto Coloma IR che si fa un po' prima che è il rapporto tra glicemia e insulina a digiuno e la conoscenza di questa insulina di resistenza sarà importante perché tra i fattori più determinanti della salute metabolica compromessa della disfunzione cardiaca e della mortalità correlata alle cardiopatie tali misurazioni potrebbero essere utili sia in ambito di assistenza primaria eccolo qui che in ambito ospedaliero per valutare il rischio di decorso complicato di malattia quindi i pazienti che entreranno con questi fattori di rischio oltre che i parametri ospedalieri standard andranno subito considerati in ospedale con particolare attenzione perché potranno manifestare gravità maggiore rispetto all'infezione e in conclusione un altro studio scusate sempre questo studio di natural review in conclusione mentre ampiamente è stata riconosciuta la presenza di comorbidità come ipertensione diabeti tipo 2 e problemi cardiovascolari associati al decorso più grave della malattia l'obesità rimane il rischio principale per queste comorbidità e un aumentato rischio verso la polmonite la misurazione delle misure antropometiche diventa fondamentale nell'ingresso del paziente e nella prevenzione del paziente covid come vediamo fattori genetici stili di vita altrano i fattori che poi determinano l'insulino resistenza pioggia citochinica grassi liberi nel sangue che possono aumentare come abbiamo visto tutti quei parametri di rischio eterogenico ma soprattutto l'aumento della disfunzione endoteliale e trombolitica che abbassate ecco scusate ma stavo dicendo che ponevo l'attenzione sui fattori concomitanti dell'omigitale sindrome metabolica che sono sicuramente fattori concomitanti che possono aggravare la malattia ai microfoni per favore scusate ma qualcuno ogni tanto si dimentica e in questa ultima quasi ultima slide vi faccio vedere un bello studio che è stato fatto sempre dalla società europea di cardiologia dove vediamo come la pioggia lo citochino lo storm delle citochine infiammatorie sono alla base dei eventi cardiovascolari quindi in un caso già di paziente con problemi di rischio cardiovascolare una presenza di un covid e di un'infiammazione polmonare così importante mediata sempre dai famosi micromacrofagi anche può determinare un rischio aumentato di cardiopatia quindi in un paziente covid a rischio cardiopatico che già aveva dei fenomeni importanti di tipo cardiopatico sarà un problema molto grave un covid perché abbiamo visto infatti quanto la mortalità fosse più alta nelle materie cardiovascolari proprio per questa pioggia citochinica che è alla base della malattia covid-19 pioggia citochinica che sarà sempre più alta laddove come abbiamo visto c'è un problema di sindrome metabolica e di infiammazione obesigena e un altro studio ancora prima di arrivare verso le conclusioni dedicato all'endocrinologia parlava appunto che il controllo metabolico del buroscogio e i livelli lipidemici della pressione sanguina erano fondamentali in questi pazienti malati e questa cosa era fondamentale per affrontare le comprovate complicanze metaboliche cardiovascolari di questa malattia un controllo efficace di questi parametri metabolici potrebbe rappresentare anche qui un impatto preventivo per migliorare gli effetti acuti riducendo le risposte infiammatorie locale quindi ormai si è già presente dei problemi dismetabolici intervenire già prima su questi fattori oltre che in prevenzione ma già in ambito ospedaliero intervenire in maniera precoce riconoscendo subito questi pazienti e controllando subito questi fattori dismetabolici può aiutare a migliorare le risposte infiammatorie locale e questo è un bello studio che è stato fatto anche qui si è visto che 1043 avevano delle cromobilità tra queste anche qui come vediamo si confermono i fattori cardiovascolari pressori ipercolestermia diabete e malattie cardiovascolari alla base di rischio di aggravamento e soprattutto di malattia quindi anche nella nostra realtà italiana le comobilità che arrivano qui non è stato menzionato l'obesità ma abbiamo compreso come questi fattori siano spesso correlati anche a fattori metabolici possono essere cofattori di malattia e di aggravamento e concludendo si può desumere quindi concludendo questa relazione e i studi che oggi stanno uscendo rispetto alla situazione di maggior di gravità del covid quello che si può concludere è questo che l'obesità non sembra costituire un fattore di predisposizione a rischio di controllare l'infezione ma che la maggior parte delle persone obese in particolare quelle passate nella sindrome in una situazione di sindrome tetabolica presentano fattori di comobilità associate che rendono più fragili all'infezione i pazienti e più inclini a sviluppare lo stato infiammatore che accompagna la gravità verso il virus quindi non è tanto essere obesi o non obesi si è predisposti un po' tutti alla problematica ci sono dei fattori probabilmente che riconosceremo nel tempo genetici o individuali costituzionali che ci porteranno meno a prendere ad ammalarci di covid climariano importante ma chi è in obesità e sindrome metabolica avrà a parte i fattori di comorbidità che abbiamo visto prima di tipo cardiovascolare ma avremo una potenzialità verso un'infiammazione e una gravità molto più importante e quindi occorrerà per forza individuare questi pazienti prima e già oggi da domani quando torneremo da domani da lunedì quando torneremo nei nostri studi aiutare a capire che i pazienti in sovrappeso e in obesità sono pazienti a rischio oggi uccide più l'obesità e la sindrome metabolica del covid quindi dobbiamo iniziare a far avere tra virgolette timore ai pazienti che hanno avuto timore del covid e della loro condizione metabolica e con questo intanto vi saluto ripresentandomi il libro che abbiamo scritto insieme a Dottor Spattini e altri colleghi dove ci ha fatto la prefazione Alessio Fasano che è un grande ricercatore italiano che lavora in America la guida alla medicina funzionale la medicina del domani dove presentiamo la medicina funzionale che è un po' il mio background il mio modo di lavorare oltre accennarvi all'associazione di cui io sono fondatore insieme a altri oggi relatori di questo di questo evento a cui il presidente Elisabetta Bernardini che vi parlerà successivamente ulteriormente dell'AFOA che è l'associazione io sono presidente scientifico vi presento vi invito ad andarla a visitare sul sito e eventualmente iscrivervi perché faremo degli eventi di tipo ulteriore sulla formazione qui con questo vi ringrazio vi lascio i miei contatti dove potete trovarmi e ringrazio anche qui Giorgio per ancora per l'invito e dopo lascio la parola a chi viene dopo di me che su dicessimo per l'invito Grazie a tutti